Nei giorni scorsi si è tenuta una conferenza al WSC Innovation Day in cui il direttore di CD Project Red Adam Kicinski ha fatto una dichiarazione bizzarra dicendo che la condizione tecnica di Cyberpunk 2077 è adesso soddisfacente sia per quanto riguarda le performance che per quanto riguarda la stabilità. In pratica come si avesse detto siamo soddisfatti di com'è il gioco adesso a sei mesi dal lancio dopo sei hotfix e tre patch gigantesche secondo lui il gioco si troverebbe in buone condizioni. È inutile che vi dica che la maggior parte, la stragrande maggioranza della community ha un'opinione profondamente diversa da quella del signor Kicinski. E ancora oggi con regolarità sia YouTube che TikTok che Facebook e qualunque altro social network viene regolarmente quotidianamente inondato di meme, video, registrazioni di gameplay che mettono in evidenza i glitch ed i bug presenti nel gioco continuando in qualche modo a ridicolizzare la gravità della situazione. Secondo Kicinski invece va tutto bene, le cose sono soddisfacenti e la compagnia è contenta del lavoro svolto. Ha confermato comunque che in futuro saranno rilasciate ulteriori patch correttive per quanto riguarda i glitch e i bug e più interessante il direttore ha parlato anche di update che dovrebbero migliorare l'intero sistema di gioco e che si baseranno sui feedback ricevuti dagli utenti. Sui glitch e sui bug ovviamente c'è ancora tantissimo lavoro da fare prima di riuscire a raggiungere una situazione che sia davvero soddisfacente, che riesca a portare veramente il gioco in una condizione accettabile. Può essere interessante invece quello che ha detto per quanto riguarda miglioramenti al sistema di gioco perché era come se si volesse riferire ad elementi più strutturali della produzione, quindi modifiche più profonde. Questo ovviamente è dire tutto e non dire niente. Potrebbe trattarsi di ottimizzare quanto già presente all'interno del gioco, potrebbe però anche trattarsi di implementare delle feature che al momento non fanno parte del prodotto, magari quelle stesse feature che erano state promesse durante le fasi di marketing e che poi sono state tagliate durante lo sviluppo. Dato che Kichensky menziona il feedback degli utenti ci sta che si possa parlare di elementi quali ad esempio gli inseguimenti con la polizia e altre feature che sono state tagliate. Sappiamo per esempio che c'è un'interazione con gli edifici veramente molto molto bassa, la quantità di edifici che è possibile visitare all'interno del gioco è molto diversa da quella che era stata promessa durante lo sviluppo. Quindi da una parte è incoraggiante il fatto che si parli del feedback degli utenti, però io credo anche che allo stesso tempo non è facile credere alle dichiarazioni di CD Projekt Red e di Kichensky in particolare. Sappiamo alla perfezione quanto questi signori si siano spinti in termini di menzogne e marketing per cyberpunk, spacciando il gioco per ciò che non era per anni, per tanti anni, fino al punto da accettare di sacrificare la propria immagine negli occhi della community. Ricordiamo CD Projekt Red era probabilmente la compagnia più amata in assoluto all'interno del panorama videoludico. Se ne sono fregati hanno sacrificato la propria immagine nel nome di qualche milione di copie vendute in più. Quindi essenzialmente queste sono delle parole che possono essere lette positivamente soltanto se decidiamo effettivamente di crederli. Noi possiamo tranquillamente ricordare come Electronic Arts abbia sempre rassicurato la community sul futuro di Anthem, salvo poi cambiare del tutto idea dall'oggi al domani e cancellare il reboot che aveva in programma. CD Projekt Red potrebbe in teoria fare qualcosa del genere con Cyberpunk, potrebbe tranquillamente prometterci il mondo, prometterci un rifacimento completo, un'ottimizzazione eccetera, salvo poi cambiare idea all'ultimo momento e annunciare l'abbandono del progetto. La situazione è diversa rispetto a quella di Anthem perché con Cyberpunk CD Projekt ha una serie di problemi di carattere economico più sostanziali rispetto a quelli che aveva Electronic Arts. CD Projekt Red si trova in causa con il governo polacco, ha avuto un intervento da parte del governo per cui rischiano tantissimo nel momento in cui non mantengono la parola data e non vanno effettivamente a fixare le situazioni più disastrose nel gioco. Ma per quanto riguarda il governo polacco si tratta soltanto di rendere il gioco effettivamente giocabile, quindi correggere la parte tecnica. Non si parla di feature, di overall e di miglioramento delle meccaniche di base. Quindi in questi termini non gli devono nulla. Discorso un po' diverso invece per quanto riguarda gli investitori ai quali la compagnia ha mentito nascondendo la condizione tecnica delle versioni per console di vecchia generazione con delle perdite economiche sostanziali causate dalle vendite ridotte appunto sulla vecchia generazione. In questo caso è ovvio che gli investitori vorrebbero a loro volta ritrovarsi con il prodotto che era stato promesso durante la fase di marketing e di promozione ma è altrettanto vero che oggi è troppo tardi per sanare la situazione con loro. Cioè anche se CD Projekt riuscisse effettivamente a lavorare, a proporre quello che aveva promesso, che avrebbe proposto, sicuramente le class action che sono attualmente già in moto non si fermerebbero. Queste stanno andando avanti e continueranno ad andare avanti e sono delle cose che verranno risolte esclusivamente in tribunale. Il discorso veramente diverso invece riguarda la community dei giocatori. Noi ce ne possiamo accorgere anche semplicemente leggendo i commenti che ci sono tante volte sotto i nostri video. C'è una parte sostanziale della community che non ce l'ha con CD Projekt Red e che sarebbe disposta a chiudere un occhio per donare e tornare un po' indietro nella propria visione e quindi guadagnare di nuovo un'opinione positiva nei confronti di questa compagnia nel momento in cui effettivamente questi riescono a correggere i propri errori e proporre il gioco che avevano promesso, che avrebbero lanciato sul mercato. Questo naturalmente sarebbe molto importante per CD Projekt Red perché gli consentirebbe una maggiore elasticità e il recupero di una credibilità agli occhi almeno di una fetta del pubblico, di una parte del pubblico, che poi sarebbe lo zoccuro duro intorno a cui basare le vendite dei prossimi titoli della compagnia. Quindi strategicamente, se loro volessero veramente migliorare il prodotto, riaggiungendo gli elementi che sono stati tagliati, magari migliorando tutto quello che oggi è ancora molto mediocre sotto tanti punti di vista, potrebbe essere a lungo termine una strategia sensata. Ad ogni modo, dire ovviamente che si tratta di un gioco con una condizione tecnica soddisfacente è del tutto fuori dal mondo e la classica dichiarazione fatta per gli investitori che ancora sono con il prosciutto davanti agli occhi, ma l'ha fatta, l'ha detta, quindi non lo so. Io personalmente non nutro tantissime speranze, ma stiamo a guardare. Per questo aggiornamento intanto è tutto, vi invito a lasciare un like, condividere, iscrivervi al canale. Qui sotto, se volete, ci sono dei link con cui potete supportare il nostro lavoro e noi ci risentiamo alla prossima.